hai visto mandare zampini che ha negato il rezzo adesso è negato anche il fanti che l'altra volta deve cacciare avanti i teltoni vai vai tanto è bassa tanto è bassa adesso sto accendendo la sono giocata paolo e cazzo tagga sta telecamera crispa posti e si è vero anche quello dai non si spegne figaro cioè qua è fonda un metro eh manca di più ma sei fuori cioè qua è fonda eh c'è entra questa è la questa è la vasca è la vasca dei pesci il dio seve è entrato nella vasca dei pesci poveri noi ancora figa ti sto dicendo che l'abbiamo ancora fatto la ribaltiamo no se fai così va adesso sputo fuori tutta cioè non si vede che è alta lì o che aveva un bel coraggio è alta un metro e mezzo lì eh questa è la vasca dei pesci si chiama c'è sempre è la vasca dei pesci si chiama cacca la moto e senza pesca ma se fatti un lato senza po' più senza e basta adesso vedi che ti muta fuori ma va accendi cosa vuoi fare accendi 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 non mi fa niente poi non mi fa niente poi non è la prima volta che la nega ma quando è così è pulita ma quando è così è pulita basta c'era quella di zambini o che è la buttano via? c'era la mia che non si spegneva l'ho ciurata un'altra volta no nel coso non torna indietro non torna adesso tu le la stai pompando nel coso la butta fuori basta accendi che tanto parte se no veniamo giù dalla discesa in marcia e la butta fuori caino è così te gliele dai vinte tutte adesso gliela dai vinta la prossima volta te ne tira fuori in marcia va beh va l'arcobaleno arcobaleno si si perché gliela tira dentro da qua ma che cazzo hai fatto? ho snegato caino non buttare strascia sai cosa gli fa tanto buttava già così di benzina allo stesso stamattina era in ritardo rovesciato roba dappertutto poi ho lasciato il tappo metto su mi butta da questa benzina cazzo il tappo e vai a chiudere ho già combinato anch'io ancora prima di uscire ci devo alzare gli ultimi 30 secondi te ma il barbarefson perchè è in tenuto ufficiale Mizzica gli ho detto oggi che devi fare una gara figaro ma vuoi farla partire senza filtro si si meglio no no pedala così che vai e basta tanto mai che vada posti già con l'avviamento in avanti e ciao parte e sci bene in avanti non parte guarda qua cadere se per me spingiamo su se fa presa in quarta fa un po' di cicli se no così non puoi pensare neanche Seve tira giù la candela e rimettila tira giù la candela e rimettila ce ne vengono dentro di acqua qua e pedalare mettiti il granulino con l'acqua rotta tutta l'acqua ce l'hai Paolo prestami il coso dell'acqua che tu ce l'hai da su impermeabile impermeabile dell'acqua ce l'hai se no si bagna tutto se no quanto pombo qua è un macello se io vado su e vengo giù senza candela con la marcia e se parte? come fa a partire senza candela? metti la quarta e basta no ma anche con la candela con la candela perché così se parte basta ma se qua ti dai un colpo la se poi parte la via si può poi parte la via si può poi arriva da bluf un'altra volta prima perché la moto senza candela è un'invenzione se parte guarda non c'è il freno davanti e bluf va dentro da fuori il caino è perverso pur di non andare le pensa tutte se va dentro da fuori ma no l'antifurtolo è giusto appunto se no che ho il caino com'è che no? è l'interruttore che lì è quello della ventola no perché non è la prima volta eh